Per calcolare il valore economico di un'opera d'arte c'è un metodo abbastanza semplice e comunemente riconosciuto. Riuscire ad applicarlo però non è sempre possibile. Vediamo quindi come si potrebbe fare per dare uniformità di prezzo a tutte le tue opere. Molti artisti mi chiedono frequentemente come calcolare il valore economico dei propri quadri. Esiste una formula ormai riconosciuta da tutti quanti, molto semplice e di immediato utilizzo. Si sommano le misure dell'opera espressa in centimetri si moltiplica per il coefficiente d'artista e quindi si moltiplica per 10 e il risultato è il valore espresso in euro dell'opera. Per esempio ipotizzando un coefficiente d'artista pari ad 1 ed un quadro con misure 50 per 70 centimetri il calcolo è presto fatto. 50 più 70 uguale 120 per 1 per 10 uguale 1200 euro. Come avrai capito il problema è il calcolo del coefficiente d'artista. Questo viene individuato dal gallerista in accordo con l'artista e sebbene si basi su una serie di parametri oggettivi quali il curriculum, le capacità individuali, la tecnica è in realtà un valore molto soggettivo. Gli artisti più quotati hanno un coefficiente d'artista che viene trasmesso tra le varie gallerie al fine di dare uniformità alla produzione dell'artista. Solitamente il coefficiente aumenta con il passare del tempo e delle attività intraprese dall'artista. Difficilmente si può avere un decremento del coefficiente, vorrebbe dire ammettere un fallimento nella carriera. Il coefficiente può essere diverso però in funzione di specifici periodi di produzione dell'artista o di diverse tecniche e supporti utilizzati. Per esempio la produzione giovanile di un artista può essere valutata con un coefficiente più basso di quella più matura. Se lo stesso artista produce opere su carta e su tela, le opere su tela possono essere valutate con un coefficiente maggiore. Le litografie possono avere un coefficiente minore se la riproduzione è più numerosa e così via. L'individuazione del coefficiente d'artista è a mio avviso molto importante per almeno un paio di motivi. Primo ti aiuta ad ottenere un riscontro positivo dai galleristi e inoltre ti aiuta a definire un prezzo omogeneo per tutte le tue opere. In questo modo non corri il rischio di svalutare eccessivamente una tua opera o al contrario di non riuscire a venderla perché il prezzo è troppo alto. Capita spesso infatti che un artista valuti diversamente i propri quadri in base a pareri puramente soggettivi in funzione dello stato d'animo del momento o di altri parametri. Nulla di più sbagliato. È importante che l'artista dia un valore omogeneo alla propria produzione. Se desideri ottenere un riconoscimento tangibile alla tua arte da parte di critici, galleristi, curatori e operatori d'arte in genere, hai la necessità di ottenere un coefficiente d'artista ufficiale rilasciato da una galleria d'arte. In tal senso Pitturiamo, che è attualmente la più grande galleria online presente nel web italiano, può rilasciare il tuo coefficiente d'artista. Se desideri maggiori informazioni invia una mail a info chiocciolapitturiamo.com oppure visita la pagina che trovi in sovrimpressione. Un caro saluto.